e adesso chi chiamo? chi chiamo? quello no l'altro per carità la vita ma forse speriamo bene buona pronto? Thomas sono Pierangelo, ho un grosso problema che ti serve? mi serve un chitarrista veramente ma veramente in gamba ho chi fa per te buona e tu chi saresti? il mio nome è Max Rosati, risolvo problemi, procediamo ciao 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Finalmente Mi hanno mandato il chitarrista giusto Uff, è stata dura Una take perfetta Ma veramente io ancora non ho iniziato a registrare Nooooooo Grazie a tutti